Negli altri Che ti è successo? Un colpo di archivungio Sparato da uno stradiota Ma Questi colpi di bombarte Da chi sono sparati? Sono le navi francesi Sono finalmente arrivate Stanno cercando di forzare La flotta della Lega Si spara da tutto il castello Anche Dalle navi nemiche Dalle navi nemiche Sì Sì Tieni, bevi, bevi, ti farò bene. Ma come vanno le cose là fuori? I cannoni, i cannoni stanno sparando le navi, per fortuna, per fortuna c'è la tempesta e l'Iveccio, l'Iveccio ci sta dando una mano, sembra che abbiano ferito a Ombragio Massimiliano I, ma gli altri? Non lo so Non lo so, signora Tenevamo su fronti diversi Non lo so Tenevamo su fronti diversi